Economicità del bambù. Parliamo ancora di una piantagione di Filostachisedulis, mosso, quello che è coltivato maggiormente in Cina e che si adatta molto bene al nostro clima temperato. Per la produzione dei germogli andiamo da una media di 1000 kg a etero, sino ai 3000 kg o anche più. C'è sempre da considerare che un bambusezzo si comporta un po' come un nostro fruttetto tradizionale in alternanza biennale, cioè un anno produce molto e quello successivo poco, quindi qui stiamo parlando di medie. Per i culmi abbiamo invece valori che si aggirano dai 900 e 1000 culmi a etero per anno. La produzione di bambusetto varia secondo di molti parametri, dal metodo di coltivazione, l'ambiente, la piovosità e la possibilità di irrigazione, una buona concimazione organica, eccetera. Comunque stiamo parlando di cifre importanti che anche a prezzi di vendita non elevati danno sempre un buon riscontro economico e lo sarà sicuramente nel momento che partirà anche la filiera italiana completa sia del food che del no food. L'economicità deriva anche dalle poche lavorazioni che richiede una piantagione una volta avviata ed ha il costo abbastanza contenuto ad esempio rispetto a quelle di un frutteto. L'operazione di impianto è quella che va fatta con attenzione, non devo sconvolgere il terreno con lavorazioni pesanti, tipo scassi, eccetera, ma solo aprirlo con un ripper. Va prestata attenzione anche alla densità delle piante in funzione della specie e con quale metodologia riprodotte. Normalmente le piante riprodotte per meristema non danno dei grandi risultati. La piantagione di bambù se le piante sono state riprodotte da seme si fa praticamente una sola volta e il ciclo produttivo si protrae per 60-120 anni prima che la piantagione collassi per la fioritura gregaria. Ma non sempre questo succede, ho visto bambusetti andare in fiore e poi dopo due o tre anni riprendersi.